Dopo la segnalazione dell'Ordine degli Avvocati e del Presidente Carlo Calvaresi, il Tribunale di Teramo, afflitto da mancanza di personale e da ritardi, ha ricevuto l'attenzione di varie autorità. L'azione di pressione fatta l'anno scorso sui ministeri e sul CSM ha portato i primi frutti, con l'assegnazione di 5 nuovi giudici. Sono magistrati ordinari in tirocinio che si dedicheranno sia al penale che al civile. È importantissimo il fatto che Teramo oggi vede la presenza di 5 nuovi magistrati ordinari in tirocinio, MOT, cioè giudici di prima nomina. Tre per l'esattezza andranno alla sezione civile e due al settore penale dibattimentale. Siamo sicuri che potranno dare un forte contributo per l'eliminazione degli arretrati che si sono nel frattempo accumulati in questi settori delicatissimi. Possiamo dire che il Tribunale di Teramo a livello regionale è quello che ha più carico di lavoro? Sicuramente. Il carico di lavoro di Teramo è comparabile a quello del Tribunale più grande dell'Abruzzo, ma in più Teramo sconta un elevato turnover dei giudici che ha causato l'accumularsi nel tempo di più cause arretrate, sia nel settore civile, un po' meno nel settore penale, ma adesso si tratterà di recuperare questa situazione. Il Tribunale di Teramo però deve ancora risolvere una situazione di lavoro più gravosa di quella degli altri tribunali abruzzesi, che ne pregiudica l'efficacia e la conformità ai tempi della giustizia europea richiesti dal PNRR. Per questo motivo tra aprile e maggio partiranno i lavori di adeguamento dell'edificio, che non comporteranno lo spostamento degli uffici, ma solo l'utilizzo di moduli esterni. L'obiettivo è quello di rendere il Palazzo di Giustizia più funzionale e moderno. Ci sarà una caratterizzazione del Tribunale, che vedrà dei lavori procedere in base ai piani dell'edilizia, sia di questo Palazzo di Giustizia che dell'ex Caserma Rossi a fianco. E quindi poi si provvederà, avuta questa sistemazione dei lavori, a riallocare tutto il personale in un modo che dovrebbe essere sicuramente più razionale.